buongiorno bentornati allora oggi il vostro produttore di fiducia è pronto a svelare tanti altri segreti per quanto riguarda siamo sempre come vedete in un impianto di pomodoro allora l'argomento del video è sempre la defogliazione no sempre è di nuovo la defogliazione se andate a vedere il video precedente perché defogliare perché si defoglia una cosa del genere cercatelo abbiamo anticipato che poi ci sono diciamo successive defogliazioni non conviene non è mai consigliato in quasi tutte le varietà di pomodoro andare a defogliare una volta sola diciamo va bene quindi ora entreremo nel vivo dell'argomento intanto vi faccio vedere qui le piante come vedete queste qui appunto nell'altro video vi ho fatto vedere sono state defogliate ora praticamente non sembrano nemmeno defogliate sono state defogliate nella parte bassa vedete ecco qua con un po di pomodoro si vede come potete come vedrete dal video però perché dobbiamo continuare a defogliare allora intanto nel periodo in cui siamo adesso finalmente c'è stato un piccolo abbassamento intanto mi sposto un piccolo abbassamento di temperatura un piccolo diciamo finalmente sostanziale abbassamento di temperatura e diciamo che siamo in valori accettabili sarebbe diciamo tutto l'anno così considerate come siamo stati ieri minime 10 massime 17 18 quindi all'esterno quindi pensate dentro la serra i valori sono più miti vabbè ovviamente le minime sono quelle però come massime si aggirano 20 gradi 22 date a capire sotto 25 insomma e c'è una certa umidità mentre fuori il clima è stato molto secco nella serra c'è sempre una certa umidità quindi praticamente di giorno la temperatura è stata ideale per le piante di pomodoro e già si vedono subito in un giorno si vedono se abbiamo fatto ovviamente tutto il percorso bene se abbiamo fornito tutte le le adeguate sostanze elementi alle piante andiamo a vedere i risultati in un giorno signori in un giorno veramente già il pomodoro soprattutto nel pomodoro costoluto si vede che diventa più l'aspetto migliora oltre al colore più vivo alla al baffo nero no la faccia scura proprio tutto il pomodore pomodoro diventa più intenso come colore più vivo bellissimo allora se già vedete qui dietro di me è stata effettuata un'altra una seconda l'argomento è quello defogliazione ora vedete quindi dove eravamo nel filare di prima ancora non è stata fatta vedete così è così da lontano praticamente non se ne vedono si vedono i pomodori ma poco e invece qui già cambia no ok ora andiamo ci mettiamo in un filare descriviamo la cosa diciamo in maniera più approfondita va bene tanto c'è una zanzara sgazziata questa è una tigre era forse rappresento ancora viva vedete trattamento riservato agli insetti queste tigre poi sono aggressive giustamente sono di va bene allora quindi io signori intanto che mi posiziono qui rinnovo l'invito ad iscrivervi al nostro canale ok parliamo di tante cose interessanti riguardo all'agroalimentare in generale non solo aspetti tecnici dell'agricoltura perché come sapete noi principalmente facciamo un pomodoro ma non solo vi invito a vedere la sezione dedicata all'orto c'è la playlist eccetera eccetera parliamo anche di argomenti diciamo un po che riguardano tutti interessano tutti nella sezione pensieri produttivi dove appunto andiamo a esaminare delle tematiche che riguardano proprio chi vive dentro l'agricoltura no come ad esempio cosa si utilizza per disinfestare i terreni come potrebbe essere abbiamo parlato del glifosato abbiamo parlato del clima insomma tante cose signori ora continuiamo il nostro video però pensateci usate il cervello sono tutti video per utilizzare il cervello ok va bene vedete qui dietro di me ora e cambia la situazione no guardate quanti pomodori si vedono e come se andate a vedere i vari abbiamo fatto dei video di resoconto della situazione questo è il settore del pomodoro questo luto precoce di fine estate ci sono i vari video dedicati abbiamo parlato dei problemi che abbiamo avuto la produzione non è diciamo forse non rientriamo nemmeno nelle nostre medie che già le nostre medie comunque sono più basse rispetto alle medie generali della produzione in serra perché per i vari motivi che ho detto già quindi dovete seguire il canale signora inutile che vi sto a dire ogni video tutto perché utilizziamo un metodo tanto basato con sostanze naturali e poi proprio un metodo per produrre alta qualità e quando c'è la qualità e soprattutto l'alta qualità non c'è la quantità signore c'è poco da fare diciamo che speriamo di essere premiati dal da un piccolo valore in più perché ormai così di mercato appunto del mercato di fascia alta per rientrare nei costi e magari guadagnare sapete noi anche mangiamo abbiamo le famiglie da mantenere da portare avanti allora tornando a noi vedete qui il pomodoro intanto i pomodori sono certo giustamente magari nel video non rende l'idea se avete visto gli altri video comunque i pomodori già in un giorno due giorni insomma con le temperature col clima differente con un clima più diciamo nella norma che abbiamo avuto un clima pazzesco due mesi e mezzo di scirocco di e qui lo scirocco spiegato se c'è il video anche su quello ciò che sarebbe caldo umido siamo arrivati anche in ottobre a 30 gradi e in novembre sopra i 25 25 anche sopra dentro la sera considerate c'è sempre qualche grado in più andate a capire che le piante praticamente sono in una situazione anomala ci sono temperature estive però le giornate non sono il sole le ore di luce non sono quelle estive quindi si crea questa situazione e sono anomale ok ora io sono in ginocchio da voi perché proprio vi voglio tanto bene però mi sta facendo un male il ginocchio porca di quella miseriaccia allora vedete pomodoro bello verde perché si va a raccogliere poi vedremo anche quello parleremo dell'argomento di come si raccoglie vi farò vedere come si raccogliono per favore state attenti ma ora ve lo anticipo ma c'è da imballedire alcuni come quelli che non sanno raccogliere il pomodoro anche ho visto qualche video signor consentitemi di dirlo cioè non so voi ad esempio che so fate qualche lavoro mettiamo siete dei metalmeccanici che ne so per fare un esempio andate a vedere uno che va a fare un lavoro che voi conoscete bene no avete fatto per una vita sapete come si fa avete studiato siete formati che ne so e andate a vedere uno che fa che sono una saldatura in un certo modo così impazziti mamma mia ma che sta facendo questo è pazzo e fa il video pure lo mette su youtube insomma quindi praticamente per rendere l'idea quando vedo certe cose mamma mia c'è da imbazzire poi soprattutto dal vivo no dal vivo non si può la faccia qui parlerei quello è un argomento bellissimo torniamo di nuovo oggi è così dai oggi il video è così scusate se un po' tremo ma mi sto spaccando allora vedete ripeto se andate a vedere magari in giro ci sono foto e video di coltivazione di pomodoro in serra magari fuori suolo eccetera eccetera che praticamente quando sono defogliate a questo livello si vede un muro di pomodoro cioè parliamo di piante che ne fanno 10 kg l'una non so se ne fanno veramente di preciso le statistiche non le so ma siamo a livello esagerati qui no qui come ho spiegato non c'è tutta questa grande produzione praticamente noi abbiamo defogliato più o meno prima alla volta scorsa più o meno a un'altezza così così e adesso abbiamo fatto una seconda defogliazione quindi praticamente un paio di grappoli alla volta è passato un bel po di tempo dalla prima volta e ancora c'è qualche pomodoro in basso nei grappoli in basso il primo magari è raro ma già il secondo ancora c'è qualche pomodoro nel secondo gra noi andiamo a defogliare terzo e quarto grappolo adesso li buttiamo fuori come abbiamo detto nell'altro video andate a vedere anche quello perché sennò non completate il quadro e prenderanno già comunque in alto dal terzo quarto grappolo in poi hanno più luce i nostri pomodori no perché giustamente sono più in alto meno ombra delle altre piante eccetera eccetera hanno più luce e quindi avranno già una colorazione diversa i nostri pomodori o noi aumentiamo questo effetto defogliando anche giustamente defogliando fino a una certa altezza l'ombra che farà la pianta alle altre sarà minore avremo sempre la nostra diciamo circolerà meglio l'aria e quindi evitiamo anche molte malattie però cosa succede ora con le temperature che abbiamo signori non ce la faccio più ho una certa età i miei figli mi stanno distruggendo per non parlare di mia moglie comunque allora praticamente cosa andiamo a vedere così si vede cosa andiamo a fare defogliando in questo periodo abbiamo detto è cambiato il clima anche se già oggi c'è qualche grado in più nelle previsioni ma poco importa a fine che qualche grado e soprattutto se non c'è molta umidità ma a quanto pare oggi sarà solo un po nuvoloso ma non molto umido e praticamente cosa succede così defogliando con queste temperature mettiamo a rischio di muffa dove i tagli nella pianta le ferite le abbiamo effettuate in questo periodo è consigliato farle con o una forbice o un coltello molto non molto ma abbastanza tagliente da fare tagli netti la forbice anche deve essere molto tagliente perché se va a spremere sono problemi per la muffa grigia e anche la sclerotina che è un'altra muffa molto pericolosa e insidiosa e noi ormai da quando utilizziamo il rame nei prodotti diciamo fungicidi l'abbiamo debellata ma prima quando non utilizzavamo questi prodotti recava molti da perché praticamente colpisce di solito che so il grappolo mettiamo una foglia si muove velocemente verso il fusto della pianta entra all'interno cammina proprio all'interno della pianta e fa morire ben presto tutta la pianta e capite se si attecchisce questa malattia nel primo grappolo praticamente perdiamo tutta la pianta allora si comunque quello lì è un problema che abbiamo risolto con i nostri tratati andateli a vedere vi consiglio di guardare quello il video della dedicato alla peronospora nel pomodoro cercatelo che praticamente sono le dosi poi che andiamo ci sono descritte le sostanze gli elementi prodotti e le dosi che andiamo a utilizzare anche per le muffe e sono molto efficaci fidatevi abbiamo ridotto i danni che praticamente non si possono ormai considerare invece soprattutto nel pomodoro costoluto e comunque si in generale nelle piante di pomodoro che fanno i frutti grossi sono molto soggette alle muffe molto soggette non solo la muffa grigia ma anche appunto come ho detto alla sclerotinia va bene ok quindi stavo dicendo cambio di temperature questo livello di temperatura all'interno delle serre in questo periodo è perfetto favorevole per la come ho detto il vice il video per la peronospora scusate ogni tanto il cervello vai in tilt per la peronospora va bene però la peronospora nel quel fatto che andiamo a defogliare c'entra ben poco perché lei agisce più che altro nelle zone e vegetative nuove quindi di solito appare in alto va bene qui invece siamo sotto pericolo per le muffe quindi è consigliato è consigliato ma non dipende anche appunto dei tassi di umidità se sono dei periodi molto umidi è consigliato fare un trattamento anche solo localizzato se non volete fare il trattamento per risparmiare per non sprecare anche perché noi non abbiamo niente le piante sono a posto sono adulte sono hanno il loro ciclo vitale ora soprattutto con le temperature più basse le giornate si accorciano è lento non riscontriamo niente non c'è né insetti quindi è uno spreco andare a fare il trattamento quello tutto volume giusto con la lancia con la pompa potete fare un trattamento con il nostro nebulizzatore a spalla no e trattamento localizzato praticamente in basso nella parte nel primo metro dipende dove abbiamo tolto le foglie dove abbiamo nuovamente defogliato no trattamento così con le sostanze che appunto andate a vedere i video che ho consigliato prima così un trattamento leggero solo qualche praticamente con 10 litri d'acqua contente da fare mille metri quadrati e già schermate praticamente la le piante dalle muffe e neutralizzate tutto bene quello lì praticamente un preventivo anche perché comunque sia nella condizione in cui siamo nella serra si è apparsa qualcosa qualche piccolo focolaio di muffe ma che praticamente abbiamo bloccato però siccome appunto la muffa grigia e la botride e ne ha delle spore che viaggiano se si salva anche qualche piccola spora trova l'ambiente l'ambiente dentro la serra favorevole diciamo che può dare problemi quindi noi per evitare facciamo questo preventivo che ci costa poco sia come lavoro sia come spese come sostanze che andiamo utilizzare e siamo a posto siamo tranquilli va bene questo è quanto ora quindi il nostro pomodoro avrà avrà più aria più luce e migliorerà la qualità sicuramente la pezzatura ahimè come ho già spiegato questa è una varietà che ha una pezzatura abbastanza grossa essendo che abbiamo avuto problemi di allegagione per il clima per l'eccessiva velocità vegetativa della pianta diciamo a pochi frutti come numero e quindi tenderanno ad ingrossarsi parecchio va bene dai signori direi che per questo argomento ci siamo va bene quindi ci sono altre cose da dire ovviamente sempre riguardo la situazione di questo pomodoro e ne parleremo però ormai già l'argomento l'abbiamo trattato di questo video e niente signori è stato bellissimo stato un piacere ringrazio tutti fate i bravi picciotti e mangiate tanti tanti pomodori ma quelle buoni